Grazie a voi per questa trasmissione, tutto quello che tiene vivo il tema della battaglia contro il precariato nella scuola è fondamentale, quindi davvero grazie per questo incontro di oggi pomeriggio e anche per aver voluto invitare tutto il vertice della Commissione istruzione del Senato che mi pare di capire sia il fronte politico più avanzato di questa battaglia, in realtà non c'è un silenzio, come diceva poco fa il collega Pittoni, quando non ci sono post o non ci sono dichiarazioni pubbliche, questo non toglie assolutamente che non ci sia invece un lavoro molto intenso, come quello che stiamo facendo, tra l'altro come tutti sanno noi veniamo da più di un mese segnato da anche una certa stasi della situazione politica per l'avvicinamento tra il secondo governo Conte e il governo Draghi, che per me è davvero quello che ci mette adesso nelle condizioni di arrivare a un cambio di passo decisivo per avere finalmente un grande piano contro il precariato nel nostro paese, cosa che non è avvenuta né durante il primo governo Conte, quello appunto Lega 5 Stelle, né durante il secondo governo Conte, quello per brevità tra 5 Stelle e Partito Democratico, io penso che ci sia stata una grande occasione persa nello scorso anno con il decreto scuola, io stesso ho fatto una battaglia durissima e arrivando così come ha fatto il collega Presidente Nencini a non votare la fiducia a quel governo in aperto disaccordo su questo punto specifico e del resto questa cosa è oramai nota, io sono convintissimo che la battaglia per la stabilizzazione non riguardi solamente le migliaia di persone che da troppo tempo vivono la mortificazione dopo tanti anni di insegnamento di non poter avere la stabilità della professione, la valorizzazione della propria competenza, la stabilità anche di uno stipendio dignitoso, non è solamente una battaglia di settore né tantomeno corporativa, questa è una battaglia decisiva per l'intero comparto della scuola e quindi per tutto il nostro sistema paese, perché il fatto di cominciare un anno scolastico con oltre 200.000 precari, con migliaia di cattedre scoperte, con più di 80.000 cattedre scoperte sul sostegno impedisce alla nostra scuola di rispondere a quello che è il suo mandato reale, soprattutto in un tempo come questo difficilissimo nella pandemia che ha fatto esplodere le diseguaglianze, la crisi economica, le difficoltà per le famiglie più in difficoltà, cioè la missione della scuola che è innanzitutto inclusione, dare aiuto ai ragazzi che vengono dalle famiglie maggiormente in difficoltà, dare aiuto anche ai ragazzi che hanno più bisogno, perché hanno bisogno educativi speciali o perché hanno bisogno al loro fianco di un insegnante di sostegno. Quindi questo tema riguarda tutta la scuola e riguarda quindi tutto il nostro sistema paese. Nella lettera che con il presidente Nencini abbiamo consegnato al ministro Bianchi, noi abbiamo scritto a chiare lettere il termine stabilizzazione, perché noi pensiamo che questo governo abbia le condizioni politiche per fare in modo che da subito, da qui a poche settimane, quindi in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico, ma settembre sembra lontano, in realtà è vicinissimo, ecco ci possa essere un'immissione in ruolo sulla base del titolo, del servizio, della competenza professionale. Questa è la prima battaglia che riguarda tutti coloro che sono precari da più di tre anni, agganciandoci anche a quella che è la direttiva europea che è stata da voi citata all'inizio, ma voglio aggiungere che oltre a questa battaglia che riguarda il precariato storico dopo un anno difficilissimo, nel quale noi abbiamo cercato anche di impedire ripetutamente che si svolgesse in piena pandemia un concorso straordinario che era già sbagliato in origine e che è stato sbagliato aver voluto mandare avanti a tutti i costi pur nel pieno della pandemia, pur sapendo che tanti non avrebbero potuto partecipare perché a rischio della malattia o perché malati, ecco noi sappiamo che oltre all'urgenza della stabilizzazione c'è però anche una questione strategica da affrontare, cioè avere al regime una riforma del reclutamento che finalmente torni a fare in modo che nel nostro paese sia accessibile in un circuito normale l'abilitazione che oggi è difficilissima da ottenere, una riforma del reclutamento che metta al centro la competenza professionale, la capacità degli insegnanti diversi dimostrata appunto attraverso l'insegnamento, attraverso il rapporto con i studenti e con le famiglie. Concludo questo primo giro Diego dicendo che noi abbiamo bisogno da subito nel lavoro che stiamo facendo per utilizzare anche i fondi che arriveranno dall'Europa e questo è un grande merito averli ottenuti, che ci sia oltre alla stabilizzazione però un grande piano per avere più insegnanti nelle nostre classi, non solamente per il tempo del covid perché non basta dire organico covid, noi abbiamo bisogno di più insegnanti a regime, riducendo il numero degli alunni nelle classi, riducendo il numero degli alunni nei plessi scolastici, aumentando il numero dei plessi scolastici anche nei territori interni laddove in questi anni in virtù dei tagli anche che ci sono stati sono diminuiti e avendo invece aumentando il numero degli insegnanti, a quei insegnanti soprattutto precari che dobbiamo sempre ringraziare per il lavoro incredibile che hanno fatto in questo più di un anno di pandemia, reinventandosi anche con la didattica a distanza, mandando avanti di fatto il nostro paese perché la scuola è questo, a quegli insegnanti noi dobbiamo anche la revisione del vincolo quinquennale che oggi costringe troppi insegnanti per un tempo che è insostenibile a stare distanti dalle proprie famiglie e dalle proprie abitazioni con un peso dal punto di vista personale oltre che dal punto di vista economico che è insostenibile. Questo tema della revisione del vincolo quinquennale io sono certo, sarà uno dei temi su cui il nuovo ministro, nei confronti dei quali ho grande fiducia, vorrà mettere al centro della sua azione da subito insieme appunto all'avvertenza contro il precariato. Essere precari non è una colpa, essere precari è figlio di un sistema ingiusto che ti costringe ad essere licenziato a luglio e poi riassunto se va bene a fine settembre o a ottobre e noi quel sistema ingiusto lo dobbiamo modificare. Chi in questi mesi si è opposto alla nostra battaglia per la stabilizzazione ha utilizzato a sproposito l'argomento del merito, completamente a sproposito, perché impedire la stabilizzazione di insegnanti che hanno grandissima qualità mortifica la qualità dell'insegnamento. Quindi basta con la propaganda a sproposito, va davanti questa battaglia che è fondamentale per il futuro della scuola e quindi per il futuro del nostro paese.